Franco Bellizzotti, campione d'Italia, oggi una corsa dove con la tua squadra potrete essere protagonista, avete tante frecce da scoccare, tu forse sei quella principale, la più importante? Ma guarda, sicuramente noi vogliamo fare bene, abbiamo dimostrato in quest'ultimo periodo di essere tutti in forma e ognuno ci ha ritagliato il suo spazio. Quest'oggi è una corsa anche molto impegnativa, direi che cercheremo di onorare anche quest'oggi questa maglia, magari arrivando premi. Un pezzero già per la prossima stagione, è la prima metà parte che diciamo quest'anno non sei potuto essere protagonista, l'anno prossimo? Guarda, adesso facciamo finire la stagione con oggi e poi avremo modo di parlarne assieme alla squadra per il prossimo anno. Ok, grazie.